Il film La Capra Si tratta della più grande tragedia avvenuta in città nel dopoguerra Dopo 4 e 30 anni è una ferita ancora aperta Parliamo dell'incendio al Cinema Statuto La più grande strage avvenuta a Torino nel dopoguerra Era il 13 febbraio del 1983 Le vittime furono 64 Fabrizio Dividi, Marta Evangelisti e Vincenzo Greco L'hanno voluta raccontare con le immagini e le testimonianze di allora Mercoledì mattina alla conferenza stampa del Piemonte Movie C'erano anche loro a presentare in anteprima Sale per la Capra Titolo che allude al film La Capra Proiettato al momento del rogo Ci sono stati momenti particolari, momenti emozionanti durante le vostre ricerche? Durante questo viaggio indietro nel tempo Ci sono stati moltissimi momenti davvero emozionanti E in particolare quando abbiamo trovato o delle persone O soprattutto dei documenti di cui noi stessi non eravamo a conoscenza Direi in particolare simbolicamente È successo che grazie all'estrema disponibilità Dei responsabili del Tribunale di Torino Noi abbiamo avuto accesso a una documentazione fatta di decine di faldoni Che giaceva sepolta ormai da vent'anni dalla chiusura del processo E ci siamo realmente commossi di fronte a della documentazione che noi stessi non conoscevamo Ci riferiamo in particolare ad alcune immagini filmati Che noi abbiamo avuto poi l'onore di poter inserire nel documentario E che senza ombra di dubbio sono inediti E che rappresentano una scoperta prima ancora che per il pubblico e per noi stessi E direi che è stato come trovare l'arca perduta per Indiana Jones, per noi Il ritrovamento simbolico di quel materiale è stato il suggello di un lavoro appassionante Che per due anni ci ha impegnato per centinaia di ore E quindi siamo contenti, lo abbiamo visto come un premio Avete mai avuto momenti di difficoltà nel continuare? La modalità con la quale noi abbiamo creato il documentario è un po' anomala Noi non facciamo questo di mestiere E per noi è stato un po' un mettersi in gioco Un cercare di creare qualcosa con le nostre sole forze E quindi lo sconforto in verità non si è venuto a creare Perché era un gioco fra noi tre che ci siamo sostenuti sempre a vicenda E che ci siamo dati manforte Come si è sviluppato il vostro progetto? L'intero progetto è stato sviluppato appunto in questi due anni Ed è alla fine rimasto sempre aperto fino agli ultimi giorni Poiché al contrario appunto di quello che avviene nei film In cui la sceneggiatura si deve scrivere e poi si può chiudere Col documentario è una cosa molto molto diversa E molto più complessa se vogliamo Perché la storia viene appunto nel momento in cui viene poi realizzata E quindi quando si trovano dei nuovi materiali Delle nuove informazioni Si aggiorna volta per volta poi la sceneggiatura E quindi quando si trovano dei nuovi materiali